Zucchine trifolate in padella, sono facilissime e buonissime, fatele subito con me. Iniziamo! Dopo aver lavato ed asciugato le zucchine, tolgo le estremità, le taglio a pezzetti, le passo in un contenitore, aggiungo l'olio extravergine d'oliva e mescolo bene bene, in modo che l'olio possa toccare l'intera superficie di tutte le zucchine. A questo punto schiaccio qualche spicchio d'aglio in camicia, le aggiungo alle zucchine, mescolo, poi accendo la fiamma sotto ad una padella antiaderente e dopo qualche minuto, quando sarà rovente, verso le zucchine facendo sì che tutte tocchi nel fondo e mescolando spesso le faccio cuocere per 7-8 minuti a fiamma alta. In realtà sarebbe meglio farle saltare per evitare di toccarle e rovinarle. Passati 7-8 minuti spengo la fiamma, regolo di sale e mescolo, copro col coperchio e lascio riposare per 6-7 minuti in modo da farle cuocere meglio anche dentro. Ed eccole qua, ma quanto sono belle e soprattutto quanto sono buone! Mamma mia!